Allora, sono con Marco Muratore, ci vuole un Muratore per alzare il muro, la battuta è idiota ma la facciamo lo stesso. Devo dire che te, Luongo e Vino avete fatto un tempo e mezzo pazzesco, quel tempo e mezzo che vi ha consentito di accumulare il vantaggio che poi è stato decisivo. Sì, effettivamente sì, il mister ha preparato la partita in questo modo, mettendo i tre centrali praticamente dietro e ci ha detto bene. Loro avevano una squadra con tre punte veramente brave, trilioni su tutti, ma veramente tutte e tre forti, il mister ha voluto alzare il muro e siccome la prima volta tutte e tre ci avevano beccato su gol fisici praticamente, gol di testa, il mister ha fatto questa scelta e gli ha detto bene. Infatti un merito, un buon 70% lo diamo al mister secondo me per questa vittoria. Sì, si è vista a un certo punto, era la sfida tra la capacità difensiva, la concentrazione, la vostra fisicità e la loro tecnica. Volevo dirti però un'altra cosa, tu hai fatto un gran bel gol, però quando il DS ti dà una palla così è facile, mi piace vincere facile. Praticamente è porta vuota, avevo solo il portiere ma stava andando sul secondo pallo, io l'ho piazzata sul primo. Ma tutto merito dell'ottimo lancio del portiere, difesa della palla di Nicola e il gol mio facilissimo praticamente. Senti, c'è la maglia bianco-rossa, mi ricorda quella dell'Atletico Madrid, ma non è che niente e niente vi siete messi in testa. Il nostro obiettivo era quello di vincere oggi e quindi comunque migliorare la nostra classifica. Siamo una squadra giovanissima, ci sono 7-8 nuovi ragazzi presi quest'anno che non conoscevano, alla prima tappa abbiamo potuto spiegare le persone le regole. Quindi già vincere oggi, mal che vada facciamo sessi per noi, secondo me è il top, ma penso secondo tutti. Ma come abbiamo detto all'inizio dell'anno, venderemo gara alla pella con tutte le squadre che incontreremo. Quindi speriamo domani. Ai ragazzi che ci stanno guardando, ai più giovani, guardatevi come gioca questo ragazzo qua, starete già a metà strada. Grazie. Ciao Marco. Ciao.